Ha ricevuto attenzione B-Party, sanna l'increscioso episodio che ha turbato la mattinata di ieri all'interno dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove un extra comunitario con codice verde in attesa di accesso per le cure improvvisamente si è scatenato contro medici e ha ferito due agenti della vigilanza che erano intervenuti per sedarlo. Sradicando uno specchio dal bagno, l'uomo urlando all'Akbar ha ferito i due agenti, generando spavento e panico tra sanitari e pazienti in attesa nel pronto soccorso. E un'anime la solidarietà è arrivata dalla politica e dalle istituzioni parlamentari. Gigi Cascello di Forza Italia e Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia si sono impegnati a presentare un'interrogazione parlamentare. Il fatto che il protagonista sia un immigrato non rende più grave una situazione che aveva già superato ogni limite, ha dichiarato Gigi Cascello. L'allarme sicurezza negli ospedali va affrontato con urgenza. Chi lavora nelle strutture sanitarie svolge un ruolo delicato e deve poterlo fare al meglio. Un'interrogazione sulla scrivania del ministro degli interni, Lamorgesi, arriverà anche dal questore della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. Non vorrei, ha dichiarato, che fosse sfuggita di mano la situazione relativa al controllo degli immigrati irregolari presenti in provincia di Salerno. Cirielli chiede anche al ministro se si sta procedendo con le espulsioni e cosa si intende fare per garantire la sicurezza nei pronti soccorsi degli ospedali italiani. Punta l'attenzione sulla legge per il riconoscimento dello status giuridico di pubblico ufficiale per chi opera nell'assistenza, che attende da mesi la discussione e approvazione alla Camera, il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D'Angelo, per il quale questo ennesimo atto di violenza nei luoghi nei quali si svolge l'attività di assistenza, conferma l'urgenza di mettere in atto ogni misura possibile per dare sicurezza in primis al personale. Ad esprimere solidarietà agli operatori sanitari e agli agenti di vigilanza privata dell'ospedale Ruggi di Salerno è anche il deputato del PD, Piero De Luca, per il quale questo ennesimo episodio conferma l'esigenza di porre rapidamente rimedio all'inaccettabile sequenza di atti di violenza che colpiscono con sempre maggiore frequenza il personale sanitario. Piero De Luca chiede di istituire anche un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.